Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, sono oggi qui a farvi vedere come sta crescendo il nostro orto. Allora, l'aglio ormai è cresciuto tantissimo, i pomodori stanno crescendo, però dobbiamo aspettare ancora che crescano un altro po' per poterli piantare. I girasoli stanno molto bene e sono cresciute le piantine di lenticchia. Vedete? Che ora pianterò. Cosa ho fatto in questi giorni? Siccome hanno riaperto i vivai, sono andata a un vivaio e a solo un euro ho comprato queste piccole piantine di zucchine. Le ho piantate facendo un buco in mezzo, mettendo la piantina dentro. Guardate, le piantine sono queste. Vedete? Le ho piantate nel vaso e ho fatto la stessa cosa anche per queste piante di lattuga, per farci una bella insalata. Ma cosa mi è successo? Ho trovato nel giardino delle piccole piante di pino e ho provato a piantare anche queste, con la speranza che cresca un albero che poi ovviamente porterò con tutto il vaso al nostro amato punto luce. Io a questo punto vi auguro a tutti quanti una buonissima Pasqua. Mi mancate. A presto. Da me e dal nostro orto. Ciao. Ciao. Ciao.